Andiamo in là, andiamo in piazza di Spagna un attimo, guardate la gente che c'è, ecco la piazzetta di Spagna, guardate qua la gente che c'è, è pericoloso. E poi ci giriamo, siamo io Osvaldo. Saluto Osvaldo, due grandi autisti, stasera il concerto di Vasco Rossi, eh Osvaldo, stiamo lavorando e facciamo la notte. Meno male che c'era quel servizio, ecco perché se c'era quel servizio Osvaldo non poteva manco riposare. Campidoglio. Come potete ben vedere. Allora ragazzi, guardi imperiali. Guarda che spettacolo. Sentite Vasco Rossi che sta cantando il concerto. Tutti stanno al concerto, invece io sto qua. Perché? Perché questa colonna qui, o questa colonna qui, ci si è appoggiato il medico Bruce Lee. qui, quando ha girato il firma e l'urlo di cento, ha valorizzato anche l'occidente. E diceva, si è affacciato e guardava ai fori imperiali proprio questo monumento e diceva Non mi piacciono le rovine, mi ricordano la guerra. E ha ragione, effettivamente. Questo è un posto speciale, pensate oh. Qui si è appoggiato il mitico Bruce. Let's go baby.